Ma come volete che io possa mettere 100 grammi di carne in più se la notte non si dorme? Di giorno bisogna correre dietro 29 direttori generali, 13.000 dipendenti, dei quali l'80% assolutamente improduttivi. Ma non lo dite ai sindacati, non lo dite ai sindacati. Improduttivi, si grattano la pancia dalla mattina alla sera. E ora per giunta vogliono stare ancora a casa con il cosiddetto lavoro agile, ma se non lavorate in ufficio, come pensate di poter essere controllati a casa? Perdonate questa mia...